ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo il primo filmato è stato ripreso da una guardia durante il suo torno di notte in un cimitero durante il suo giro di routine in mezzo ad alcuni loculi uno spirito appare proprio davanti agli occhi della guardia che non può far altro che riprendere quell'evento e documentare il tutto il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento durante una visita notturna in un cimitero un uomo di nome louis si avvicinò ad alcuni loculi quando all'improvviso sente un forte odore di fiori l'uomo non sapendo cosa fare decide così all'improvviso di scattare alcune foto e su una di queste rimane impressa questa sagoma nera che non sembra voler dire nulla di buono un ragazzo di nome riccardo murgos entra nel cimitero per investigare con i suoi amici su alcune strane attività paranormali che sarebbero accadute in quel posto non trovando nulla di strano decidono di scattarsi una foto prima di andarsene nella foto si possono notare i ragazzi che ridono e scherzano oltre ai ragazzi qualcos'altro di più spaventoso rimane impresso sulla foto ciò che viene ripreso è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento in un cimitero dello stato del messico un gruppo di amici decide di fare una bravata entrando in un cimitero di notte per puro divertimento arrivate sul posto scendono dall'auto mentre si avvicinano al cimitero i ragazzi sentono uno strano urlo provenire dal cimitero a quel punto decidono di tornare in macchina e andare via il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento che Voi voi voi? Voi 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 voi? Sono giocato in occhio? Voi voi voi? Voi voi voi? Voi voi voi? Voi 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 voi? Sto dicendo che questo è... Questo filmato è stato realizzato durante una festa e mostra due bambini mentre ballano e si divertono Sembra però che ad un certo punto accada qualcosa di veramente strano Una strana ombra oscura appare davanti alla telecamera sfrecciando proprio davanti alla camera creando una piccola interferenza Il video è davvero incredibile ma andiamo a guardare il documento L'ultimo filmato è stato ripreso da un uomo che dichiara di avere la casa infestata da uno spirito maligno Il filmato mostra l'uomo mentre fa una panoramica della stanza dove apparirebbe lo spirito quando ad un certo punto la telecamera cattura qualcosa di spaventoso che appare in pieno giorno proprio nella stanza dell'uomo Il video è davvero impresionante ma andiamo a guardare il documento è la mia casa quando tu quieras venire qui io te espero questa è la cucina este qui vedo lo dei trastes los trastes qui vas a acomodar bien tutto sale il refri la barra bueno la sala e il patio qui sta si si te spero quando tu gusti e anche oggi siamo arrivati al termine ragazzi il video finisce qui non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao ciao